Siamo qui con Paolo Galizzi che è arrivato primo di manche, cioè primo assoluto, nella categoria mini quad. Ciao Paolo, dici un po', come sono andate le qualifiche manche 1 e manche 2, quali sono state le cose difficili e quali invece sono state quelle facili? Le prove sono andate bene, anche la gara, anche la prima gara e la seconda. Il mezzo andava bene, il quad? Sì, bene andava. Andavi molto veloce abbiamo visto, avevi una velocità pazzesca sulle curve, in percorrenza e oggi ho visto che oltre alla coppa che di solito prendi, quando vinci, ti hanno regalato anche un prosciutto, è contento tuo padre del fatto che hai portato a casa il prosciutto? Sì. Prossima gara quando? Domenica prossima. Ho capito, allora ci vediamo domenica prossima, speriamo di vederti vincere un'altra volta. Ciao Paolo. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.